FABIO DI SALVO Fabio Di Salvo, quest'oggi arrivo, è stato match sponsor della partita fra Kun e l'Uezo, una partita combattuta, è arrivato un 2 a 2, come prima cosa chiedo che gara ha visto, che emozioni sono state, insomma è stata una gara veramente combattuta. Beh sì, una partita molto combattuta, è stato un peccato per il finale, diciamo che un po' di sfortuna ha condizionato la partita e ha mancato la vittoria per un niente. Arrivo appunto è stato il match sponsor di questa gara, per chi non lo conoscesse, che cos'è Arrivo? Beh intanto siamo molto contenti di essere stato sponsor di questa partita, Arrivo è una cucina, una virtual kitchen, multi brand, ci occupiamo principalmente di delivery, attraverso un'app si può ordinare da casa il proprio cibo preferito, la particolarità è che multi ordini, quindi si possono ordinare da più ristoranti contemporaneamente e ricevere tutto a casa in un unico ordine. Ci teniamo molto alla puntualità e quando arriviamo in ritardo rimborsiamo. Una collaborazione, una partnership con qualcuno che va avanti, come sta andando? Questo è il secondo anno che come gruppo WIV, come dire, diamo il nostro piccolo contributo insieme alle altre nostre attività, il CAD, la mancheria e anche il Caffè Roma che pur essendo a Fossano partecipa a questa iniziativa. Siamo molto contenti, quindi speriamo che il percorso continui di questa collaborazione.